Abbiamo qui uno stronzo da manuale! Sparate al bastardo! Qui stronzo, questi proiettili sono per te! Abbiamo qui uno stronzo da manuale! Sparate! Sparate me! Sparate! Sparate! Sparate Grazie a tutti. 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 Muori! Muori, bastardo! Grazie a tutti. 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 Arte 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 a tutti. Arte. Arteum! Arte... questi non sono i soliti mutanti sono diversi e di gran lunga peggiori paura anche i figli odiati dai loro genitori cercano di amarli e di capirli noi vogliamo capirli e aiutarli è l'unica uscita poi che farai grazie